e benvenuti in questo nuovo video siamo qui oggi su una nuova serie di minecraft oltre a quella di minchio che sta facendo la serie art noi abbiamo deciso dato che la serie della techite è bloccata anche se possiamo anche riprenderla poi spiegherò a francesca quindi boh vedremo cosa fare oppure faremo ecco cosa si può fare è fare questo ora io faccio così e muore ok allora quella se in chat non vedete cosa è successo e perchè l'ho oscurata per non far vedere di piazza pancina tanto lo mette una descrizione bene comunque questa è la nuova skyblock aggiornata il server che ci dà che ci offre la sua mappa dedicata allo skyblock che nella cesta se io non l'aggassi ci mette un secchio di lava un secchio d'acqua tre semi di grano due semi di zucca due semi di meloni un oax sapling uno spruce sapling quattro torce quattro mele due ossa una zappa di ferro che non capisco a cosa serve anche se non ce la potevamo dare in legno dato che non faremo delle sugar cane anche se non sappiamo dove la sabbia la dirt e il blocco di legno che non so se l'ha messo marquisio e aveva già tre alberi di spruce ea 2 euro no così se questo è spruce scusa a città albergo il legno era proprio nella cesta ok ea e c'è già aveva messo l'acqua il giallo gioco c'è anche lo shop che significa materiali cioè cobblestone aspetta come la buonanza problemi workshop così faccio no come si fa che ma non è poco che devo morire capito fai flash spawn c'è qualcosa c'è la bedrock comunque mezzo sotto testo e spona la stessa cosa vabbè fai prima morire no ho fatto prima fai e da qui c'è lo shop e qui c'è lo shop e qui c'è lo shop mi sembra non lo so chiedeva ma chi c'è il nether cibo contadino due cobblestone nether blocchi comuni ora io voglio sapere che non c'era lana ah per la stone questo cobblestone no la stone c'è più che altro io vorrei tipo che l'ho pensato due secondi fa eh però già mi sono scordato allora prima di tutto devo vedere un secondo una cosa ecco qua minerali dove? dove stanno? allora qua se vedi 25 cobblestone ti fai un pezzo di ferro si ho capito però se mi seguire almeno non so dove sei qua minerali non so se lo puoi cliccare si eh 25 cobblestone flint nether quartz 25 un ferro allora quello che faremo noi molto probabilmente è mettere questo o per sotto il pezzo di cobblestone che si genera in modo tale che non perderemo neanche un pezzettino di cobblestone almeno dovrebbe funzionare in teoria dovrebbe eh se vi chiedete che texture sto usando molto probabilmente se me ne ricordo ve la lascio nella descrizione la fitful non è la fitful ma si era una spax pure bdcraft avevamo detto che si doveva comprare si deve mettere fitful ma va bene va bene qui invece c'è ci sono le varie capanne penso che siano capanne di scheletro creeper cos'è questa squid? e qualcos'altro vabbè qui è shop di moneta islam donno ok iniziamo la ladder star costa 15 mila 15 mila ah perchè ci sono i soldi ci sono i soldi ah io ho 814 mica ci sono i jobs come potete vedere ragazzi non siamo proprio preparati esatto molto bene voglio vedere più che altro se c'è lo shop che non sia con la cobblestone perchè è un po' palloso ok allora facciamo islam donno io nel frattempo raccoglio il legno con un cretino perchè non sa fermo fra fermo si picchio perchè scusa why ora io faccio così perché scusa no cadi dopo il terzo blocco cadi cioè lo vedi come lo vedi guarda ti ricordo che non è quella vecchia è quella nuova ah si vero ricorda di fare il blocco sotto call call fantastico io ho estremamente paura di perdere il legno ma tipo troppa ma se tu aspetti io voglio fare la piattaforma qua piattaforma anti-mob su a un mob cioè se ragazzi se voi non sapete come sia sarebbe mettere i blocchi di slab i blocchi di slab le slab qualsiasi tipo di slab perchè avevi fatto la slab mettere il blocco sotto cioè al piano di sotto in modo che non sia un blocco completo perchè i mob spannano soltanto sui blocchi cioè questi qui interi e perchè sono sceso sono un cretino infatti se vedete quel blocco non è neanche allineato però anziché fare questo subito mi sa che penseremo prima a fare l'opper che a fare esatto la pedana quindi ci serve uno 25x5 fra prendiamo se stella matematica ehm 125 france madonna fa schifo grazie ok io mi sono fatto soltanto una piccola ascetta in legno vediamo se riesco a sbagliare non so se c'è la telecapitator o il plugin della telecapitator non so come si chiama no in legno no non c'è la ok va bene cerchiamo di arragarsi non riesco a prendere la cobblestone attenzione attenzione la cobblestone ribelle la cobblestone che si ribella ah non vuole non vuole essere essere spaccata ah france aspetta dovremmo anche abbassare tutto france i sapling sei scemo ferma batti tutte le foglie prima eh non c'è il crook ma france madonna devi fare sempre mod modate madonna le mod modate tra parentesi le mod modate fantastici chi è che non ha mai giocato le mod modate io ehm ok c'ho un sabling comunque marchi la gente ci dovrebbe essere un sabling di tutto comunque parlando seriamente dobbiamo arrivare veramente a 125 cobblestone sarebbero aiuto quasi due stack capito devo fare questo quindi magari per non vedervi dato che non facciamo niente taglieremo più che altro questa parte esatto oppure lo veloci inserò intanto mi spano su whatsapp metti in vibrazione vai prima appunto o metti muto ora che metto il telefono per fare piccoli problemi di registrazione ah ecco marchisio invece se è morto sepolto perchè whatsapp gli dice tu non devi registrare voi non dovete registrare e vi riprenderemo il video appena come dire appena avremo raggiunto la cobblestone che che dovremmo usare a dopo eccoci ok allora cioè questi qua questi due ok aspetta aspetta questi qua questi qua questi qua sono quelli che devi prendere per fare il non quello ah devo prendere questi si poi andare allo spawn cioè se mi suicidasse non avrebbe molto senso lo devo andare seguirmi ho detto un secondo ok di qui i minerali bravo e andare a cercare non sbagliare compro il ferro il ferro iron ingot ah 25 gobblestone pure l'oro bene ed eccoli qui 5 pezzi di ferro poi andiamo all'isola is random ha importato male la tua ha impostato male la tua isola is fix home devo creare l'isola fix home ok coordinate riparate is random ok puoi farlo ma chi invita fra invita sei già sono prima devo creare la mia isola prova a fare fa island home adesso sei qua no si ok per tutti quelli che non sanno molto di minecraft un hopper si fa così magari se non l'algo si fa con una cesta al centro e 5 pezzi di ferro in questo modo e si crafta un hopper noi ora un'altra mia amato no no per di quali quali quando c'era quando c'è no qua usa cosa passa passano per perché passano per no fermo praticamente noi per farlo ma certo si praticamente noi mettiamo una cesta qui adesso e qui sotto ci mettiamo un hopper magari se il marchisto si leva e premendo shift clicchiamo sulla cesta così lo trasporta direttamente sotto e se noi adesso prendiamo il piccone e scaviamo questo se il marchisto si levasse magari ti farebbe un grandissimo fare ok dovrebbe dovrebbe prenderli ecco di qua cioè la maggior parte che non prende per esempio quello è andato lì perché è bastardo tutti quelli che prende dovrebbero andare giù dobbiamo andare ecco infatti però se tieni premuto l'opera non è tempo di prendere non ci stai bruciando tutto ecco qua fai più piano fra a questo punto è meglio farli a mano scusa ma che eh non per offendere eh oh credevo che funzionava non funzionava quindi quindi abbiamo spregato esattamente 5 pezzi di ferro e uno due ci serviranno per l'opera tranquilo non abbiamo spregato per il mob spawner faremo non c'è fermo non spaccare blocco fermo non spaccare blocco vediamo che si brucia nella roba ok va bene come vuoi l'opera lo useremo tranquilli tranquilli lo useremo lui lo userà perché farà tutto lui ovviamente come fuori nella cobblestone ma va bene eeeh ma chi che dici finiamo qua il primo episodio ah insomma cos'altro qualcos'altro vedi quanto è durato ok allora ragazzi vedo quanto è durato eeeh ci rivediamo appena avrò finito di vedere quanto quanto sarà se è lungo a dopo a dopo ok eccoci ragazzi eeeh nel frattempo ho farmato un po' e ho comprato della cobblestone e nel frattempo è venuto anche il nostro ricotti agai che non può parlare perché ha intrappolato nella casa dei suoi genitori che gli impongono di non poter parlare ha detto già a tutti i ragazzi ha detto ok va bene tutti i ragazzi questo ricordi che c'è tutto è tornato ecco ecco ok non si capisce nè eeeh non si è capito appunto niente eeeh vogliamo subito iniziare a fare un bagno possiamo iniziare una cosa molto molto in grande fra cosa faremo oggi cosa faremo oggi oggi che poi già abbiamo fatto perché questo video se mi baggo e casco di sotto ho tutta la cobblestone che ho comprato antifagami ciao mattina no 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 un attimo marchichi vado a prendere un paio di blocchi e chiudo l'acqua no 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 buona buona l'acqua buona l'acqua però l'ho fatta apposta no appunto per faccadettia va bene ok a parte dei scherzi ragazzi non so cosa dobbiamo fare vai di islandom vai di islandom ciao mattina non so cosa dobbiamo fare la smetti smettete la smetti ma ancora marchi c'è questo tutto 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 non lo devi mettere in vibrazione marchi ragazzi butto giù il legno butto giù il legno non lo sai ti chico dall'isola tia dai per favore tia dai stiamo registrando dai per favore tia per favore almeno quando registriamo su dai ok nel frattempo sbattono le porte ma leva il sonno di minecraft perchè ti ha rompe ah ok allora leviamo ok finalmente non si sente niente che brutto si sentirà solo ts che brutto eh no comunque devo attivarlo o almeno mettilo al minimo o almeno il 15% dovrebbe usare tia per favore tia dai ma si stanno andando a craftare un piccone fra vuole buttarmi giù con quale cobblestone con quale legno no vaffanculo tia rimetti il legno ora ora tia ora tia seramente tia seramente tia seramente madonna tia non ci vuole fare island kick guarda smette di fare coglione ok ciao tia no no e appena vuole andare per il tempo passato online ok ciao tia quando lui fa parkour c'è morto ah ciao tia no 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 togli questa acqua però non guarda che faccio ciao tia ciao tia ciao tia ciao tia no dai marchi per favore veniti a oh dai dai per favore eh andiamo andiamo avanti e non scherziamo dai facciamo allora cosa vuole fare il nostro oggi il nostro signor marchi 99 fare il mob spawner e cosa devi fare con questo mob spawner prendere i drop quindi prendere le ossa di setri per farci il bomb mille per farci il bomb mille cosa hai preso tia polvere di ossa marchi attento alla lava marchi attento alla lava per favore tia oggi abbiamo questo nostro amico tanto trolloso perchè non può parlare non può parlare esatto meno male che non parla dia non mangiare le... dia ci hai mangiato le mele fra ma no basta ti chicco ma ti chicco veramente grazie 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 Al prossimo episodio 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 Al prossimo episodio